salve a tutti fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 7 giugno 2019 dio vi benedica e sia lodato sempre nostro signore gesù cristo come vedete dalla miniatura di questo nostro giorno 7 giugno 2019 vedete dei massoni insieme a un sacerdote cattolico che hanno fatto celebrato una messa e c'è scritto ma sonia in chiesa il grande piano dei nemici e gettare fuori il sacro anguera andremo poi a vedere questo messaggio e come leggete la massoneria vuole distruggere la santa chiesa cattolica è scontato fratelli e sorelle se la massoneria viene dal demonio l'unica cosa che può fare è quello di distruggere la santa chiesa ci provano ovviamente ma non ci riusciranno mai perché gli inferi non preparano fratelli e sorelle andiamo a vedere i messaggi che si riferiscono proprio a questo a questo giorno fratelli e sorelle carbonia 16 maggio 2019 colle del buon pastore dice questo figlioli in questo colle succederà una grande grazia qui avverrà la conversione di molte persone state in attesa di me presto succederà un grande evento su questo colle figlioli presto sarete presi dallo spirito santo e vedrete con occhi differenti e vivrete le cose di dio perché sarete in dio in questo tempo mi presento come maria di fatima perché questo è il mio tempo è il compimento dei tempi appronunciati questo mondo a breve sarà trasformato nella bellezza di dio e voi sarete angeli sarete con me sarete al mio fianco per sempre e per sempre canteremo e grideremo la gloria del nostro dio signore nostro gesù cristo presto sarete tutti battezzati figlioli riceverete lo spirito santo sarete rinnovati completamente in colui che vi ha creati avrete dei doni speciali tutti quanti ed andrete ad evangelizzare le genti coloro che sono rimasti lontani dall'amore di dio coloro che non hanno voluto ascoltare la parola di dio e si sono persino persi nelle cose del mondo tutto è per succedere figli miei il cielo compie oggi le sue profezie sulla terra sarete come dio vuole sarete angeli nel cielo azzurro volerete con agli di aquila e sarete veggenti per sempre perché abiterete le cose di dio e vedrete dio per l'eternità portate l'annuncio a gesù nel mondo la fede nel mondo la salvezza nel mondo l'ora del grande ritorno di gesù alle porte in questo frattempo vedrete manifestarsi sulla terra per portare a compimento le profezie del cielo tutto ciò che il cielo stesso ha annunciato questo colle insieme a tutte le altre chiamate del mondo quindi le altre apparizioni che ci sono non solo il colle di carbone ma tutte le chiamate su questa terra sono un'unica opera in cristo signore gesù cristo per portare questo mondo alla salvezza siate i benedetti del signore figli miei andate in pace e annunciate a tutte le genti che io sono di ritorno questo è un compito che oggi vi do annunciate il ritorno di gesù sulla terra state sempre in stato di grazia annunciate i comandamenti e le leggi di dio dall'italia ci spostiamo in brasile 21 maggio 2019 messaggio della madonna di anguera e dice questo ascoltate dio a fretta quello che dovete fare non lasciatelo per il domani vi chiedo di essere difensori della verità l'umanità cammina per un abisso della distruzione spirituale la verità piena annunciata da mio figlio gesù e difesa dal vero magistrato della sua santa chiesa sarà abbandonata da molti consacrati verrà confusione verrà una grande confusione nella chiesa e nella casa di dio il grande piano dei nemici i massoni è gettare fuori il sacro state attenti perché nessuno vi inganni credete nel vangelo di mio figlio gesù cristo e nella sua presenza nella santa eucalistia in corpo sangue anima e divinità non permettete che nessuno vi allontani da questa verità 21 maggio 2019 trevignano romano dice questo la vergine maria amati figli vi esorto di vivere i messaggi che vi lascio di commentare spesso il vangelo figli cari vi esorta ancora una volta la conversione urgente non capite che non avete più tempo a disposizione non è più tempo di perdere tempo perché è finito guardatevi intorno vogliono distruggere la mia chiesa anche dall'interno ci saranno attacchi terroristici dal mondo figli pregate affinché chiunque parli dell'infusione dello spirito santo difendete la vera fede cristiana e non distorcedela vedete messaggi molto forti messaggi che vanno a decifrare e a vedere proprio la situazione reale che è attualmente questa fratelli e sorelle una situazione veramente pesante e difficile uno può pensare però guardate fratelli e sorelle questa è la è la verità e soprattutto come vi dicevo nei giorni scorsi vogliono cambiare la santa messa fratelli e sorelle cambieranno le parole e ci proveranno a fare questa cosa fratelli e sorelle quindi preghiamo che il signore intervenga presto proprio a difendere quello che deve difendere cioè la santa chiesa cattolica fratelli e sorelle noi dobbiamo difendere la verità con le nostre parole con le nostre opere fratelli e sorelle non rimanere in silenzio perché come dice la vergine maria d'anguera cari fratelli e sorelle come dice la vergine maria d'anguera il silenzio dei giusti da forze nemici di dio fratelli e sorelle per questo che bisogna dire la verità fratelli e sorelle dire la verità fare la volontà del signore e combattere con le armi spirituali santa messa santa confessione santo rosario le preghiere le allopere di carità tutto quello che il signore ci ha raccomandato quindi questo è quello che bisogna fare che dio vi benedica sia lo dato nostro signore gesù cristo sia fatta la volontà di nostro signore gesù cristo ave o maria se potete se volete iscrivetevi al nostro canale se potete se volete diffondete la verità diffondete la santa parola di dio e diffondete anche questi messaggi se potete proprio per far vedere alle persone che la situazione non è delle migliori stiamo in tempi apocalittici fratelli e sorelle quindi bisogna dire la verità e combattere fratelli e sorelle combattere con la preghiera è questo si intende come le armi con la spada della fede la spada delle delle parole che la parola di dio fratelli e sorelle che divide e fa la verità fratelli e sorelle divide nel senso che divide il male per portare il bene fratelli e sorelle è questo che bisogna fare sia lo dato gesù cristo dio vi benedica se dio vorrà se ci sarà una puntata e oggi di live ve lo faremo sapere e sia fatta sempre la volontà di nostro signore gesù cristo avevo maria prego per voi e voi pregate per me e per preghiamo per la santa chiesa cattolica dio vi benedica